E' importante novità in questo tratto di strada dove ci troviamo ma anche in generale per Rosciano? Sì, diciamo di sì che dopo mesi finalmente abbiamo discusso un'interpellanza presentata da me e dall'altro consigliere di progetto Fano Gianluca Ilari da Davide Del Vecchio che chiedeva appunto più attenzione per il territorio di Rosciano perché sono anni che questa strada purtroppo in queste condizioni ovviamente perché era un tratto di strada che sarebbe stato asfaltato con la partenza di questi comparti che sarebbero dovuti partire ma purtroppo in questi anni non sono partiti e quindi ci siamo trovati per anni con una strada veramente distrutta quindi anche per il transito chi passa in bicicletta soprattutto con i motorini molto molto pericolosa quindi sembra che adesso finalmente diciamo entro la fine dell'anno comunque nei prossimi progetti che partiranno ci sarà anche l'asfaltatura di questo tratto di strada e poi a Rosciano in un punto abbastanza critico avete chiesto che vengono realizzate delle segnaletiche orizzontali sì perché il tratto della Flaminia che comunque sappiamo tutto è un tratto molto pericoloso perché le auto vanno a una velocità considerevole anche se purtroppo non dovrebbe essere così abbiamo chiesto appunto che venga ripristinata tutta la segnaletica orizzontale perché è un tratto di strada che la provincia ha asfaltato la scorsa primavera ma dalla scorsa primavera ancora non è stata ripristinata la segnaletica orizzontale molto importante perché ci sono anche delle attività lì e quindi è un punto molto pericoloso dove anche anziani e bambini si trovano ad attraversare e nella città delle bambine e dei bambini ci auguriamo invece che soprattutto gli attraversamenti pedonali, quelli più pericolosi vengono comunque tutti segnalati adeguatamente anche magari dove è possibile con un'illuminazione adeguata perché altrimenti ci ritroviamo soprattutto i genitori sempre con un pensiero e una paura per i propri figli